Questi sono i casi della vita, sul gol del pareggio Masello ha fatto un gran gol da fuori aria, sul gol della vittoria dobbiamo dare un gran voto a Antonelli che ha messo una bellissima palla, poi a volte uno decide, ho primo o secondo pallo, ho deciso di andare sul primo e mi sono buttato lì, per fortuna è da bene.